Musica Incidente mortale sulla strada statale 106 nei pressi di Stignano nel Regino. Muore un pensionato. Minacce contro il procuratore Gratteri, rivelazione di un test durante il processo rinascita scotto. A Catanzaro convegno dal titolo, adolescenza, questa sconosciuta, viaggio all'interno del disagio giovanile. A Crotone conferenza stampa per fare il punto sulla realizzazione del progetto. Antica Croton. Salve e ben ritrovati con una nuova edizione delle informazioni di Calabria TV. Giornata della memoria e dell'impegno a Milano. Manifestazione organizzata da Libera. In piazza anche i familiari delle vittime innocenti di Indrangheta. In occasione della 28esima giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, i migliaia sono scesi in piazza a Milano per partecipare alla manifestazione organizzata da Libera. In testa al corteo, partito da Porta Venezia, è il fondatore e presidente dell'associazione Don Luigi Ciotti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il segretario della CGL Maurizio Landini. Presenti oltre 500 familiari di vittime innocenti delle mafie, tra gli altri figli del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Simone Nando dalla Chiesa. Non hanno voluto mancare neppure i familiari delle vittime innocenti di Indrangheta, tra cui i parenti di Maria Kindamo, Filippo Ceravolo, Vincenzo Grasso, Antonino Marino, Lollò Cartisano. Tra la folla anche Elish Lane, Rosy Bindi e Gad Lener. Dal palco sono stati letti i nomi di 1069 persone, nomi che negli anni libera il raccolto raccontando la loro storia per fare della memoria impegno. E anche a Locri, nel Regino, in tanti hanno partecipato alla celebrazione della giornata della memoria e dell'impegno. Oggi è la 28esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dal titolo, o meglio slogan, è possibile, lo slogan di questa giornata vuole portarci a riflettere su ciò che ciascuno di noi può fare per l'affermazione dei diritti e della giustizia sociale. La parola possibile deriva da potere e indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere. In un momento storico in cui le difficoltà sono numerose, con la crisi ambientale, sociale ed economica aggravata dalla pandemia e la vulnerabilità politica internazionale provocata dalla guerra, si ha il dovere di indicare insieme la strada, di dire dove può e dove deve portarci l'impegno comune. Nella Locri de Libera ha scelto piazza Francesco Fortunio a Locri con la lettura dei nomi del piazzale antistanti il Tribunale assieme agli ex detenuti della casa circondariale di Locri. La lettura dei nomi vuole essere opera segno ed in continuità con i percorsi di collaborazione attivati tra Diocesi di Locri Gerage, nella persona del Vescovo, Sua Cellezza Monsignor Francesco Oliva, il Tribunale di Locri, nella persona del Presidente Fabio Accurso e Libera Locri sui processi di cambiamento, di giustizia ma anche però di memoria. L'amministrazione comunale di Locri come sempre sposa questa lodevole iniziativa di Libera giunta alla ventottesima edizione e sposa soprattutto lo slogan di Libera è possibile, perché è possibile per il nostro territorio avere un futuro migliore, avere una realtà migliore, avere una rinascita giorno dopo giorno. E quindi per noi è fondamentale che il ricordo non vada a finire nell'oblio, ma in ognuno di noi attraverso l'enunciazione di ogni singolo nome delle vittime della mafia si possa rinnovare nel nostro intimo un segnale di speranza e di fiducia. La memoria significa impegno, significa prendersi delle responsabilità che non possono venire in meno rispetto al cambiamento del territorio. Le responsabilità vanno condivise con le istituzioni, con la Chiesa che attiva e partecipe. Infatti il bello della giornata è essere qui davanti al Tribunale dove le istituzioni fanno memoria insieme ai cittadini, i cittadini fanno memoria insieme alle istituzioni, alle forze dell'ordine, alle forze sane del nostro territorio, perché questo territorio può e deve cambiare. Passiamo ora alla cronaca, ennesimo incidente stradale sulla strada statale 106 nel comune di Stignano nel Regino, scontro tra un'auto e un camion, muore un pensionato di Riace. Un nuovo incidente mortale purtroppo ha macchiato di sangue la strada statale 106. Ieri sera, poco prima dell'ora di cena, un'autostation wagon guidata da un pensionato di Riace si è scontrata con un camion all'altezza del ponte di Stignano Mare. Nel terribile impatto con il mezzo l'uomo ha perso la vita, rimanendo vittima nel proprio veicolo. All'arrivo dell'ambulanza del 118 ai sanitari è rimasto solo a constatare la morte dell'anziano uomo. Il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora in attesa dell'arrivo del magistrato di turno della procura di Locri. Una fila lunghissima di auto in attesa che fossero liberate le carreggiate dai veicoli. Sul posto una pattuglia della polizia stradale assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Rocella Ionica guidata dal capitano Marco Zavattaro e di vigili del fuoco del distaccamento di Siderno. Al momento dell'incidente stava piovendo, cosa che avrebbe reso certamente l'asfalto viscido. La stessa pioggia avrebbe reso anche più difficili le condizioni di visibilità. È l'ennesimo incidente che accade nello stesso tratto di strada. Bisognerà domandarsi perché. Un incendio sulle quei cause indagano i carabinieri di Cassano all'Oionio che al momento non escludono nessuna ipotesi è scoppiato nella discarica controllata di rifiuti di Contrada La Silva, sempre a Cassano all'Oionio. Nel corso del processo rinascita scotto contro le cosche del Vibonese secondo la testimonianza di un test sarebbero emerse delle minacce nei confronti del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Andrà anche eternata prima della legge. In Calabria comandiamo noi, come sempre stato. Sono queste le frasi che Antonio Mangone, di 58 anni, testa dell'accusa, ha sentito ieri nel processo rinascita scotta alle cosche del Vibonese. Il processo è in corso davanti al Tribunale di Vibonese, nell'aula bunker di La Mezzia. ha riferito di aver ascoltato queste frasi da alcuni imputati dello stesso dibattimento detenuti come lui nel carcere di Siracusa. Mangone ha riportato in particolare le frasi contro Gratteri e a suo dire sarebbero state pronunciate da Gianfranco Ferrante, imputato nel processo rinascita scotte con l'accusa di essere organico alla cosca Mancuso di Limbadi. Noi siamo una potenza, avrebbe detto Ferrante, secondo Mangone. Non siamo mica morti e col tempo tutti questi, il riferimento è stato a Gratteri, ai magistrati della DDA di Catanzaro e i loro collaboratori la pagheranno e faranno una brutta fine. Mangone, che è originario di Cariati ma risiede da tempo in un centro alle porte di Padova, ha aggiunto che lo stesso Ferrante avrebbe fatto riferimento anche alle dichiarazioni di un pentito secondo il quale una cosca di Indrangheta avrebbe progettato un attentato contro i figli del procuratore Gratteri. C'erano anche affiliati di altre cosche, comunque ha detto ancora Mangone, che parlavano male di Gratteri. Antonio Mangone, che non è un collaboratore di giustizia, è stato coinvolto in passato in un procedimento sulla presenza della cosca Grande Aracri in Veneto. A conclusione del suo esame, Mangone ha chiesto al Tribunale che gli vengano concessi lo status di collaboratore di giustizia e un programma di protezione per sé e per la sua famiglia. Il Presidente del Tribunale, Brigida Cavasino, ha risposto che la decisione della richiesta di Mangone compete ad altri organi giurisdizionali e non al collegio giudicante davanti al quale si sta celebrando il processo di nascita Scott. È di un uomo dell'età di circa 30 anni, l'ottantottesimo cadavere trovato nelle acque a Steccato di Cutro, teatro il 26 febbraio scorso del naufragio di un barcone proveniente dalla Turchia, carico di migranti. A oltre tre settimane dalla tragedia sale così a 88 il numero delle vittime. Il corpo dell'uomo è stato avvistato in mare a poche decine di metri dalla riva dal personale dei vigili del fuoco che stava operando nella zona e successivamente è stato recuperato. Maxi sequestro nel crotonese di prodotti EGIG, privi del contrassegno dei monopoli. I finanzieri del comando provinciale di Crotone hanno sottoposto a sequestro penale in relazione alla quantità di nicotina di volta in volta riscontrata oltre 220 mila pezzi tra sigarette elettroniche, filtri, cartine e posti in vendita in assenza della prescritta autorizzazione delle agenzie delle dogane e dei monopoli al termine di controlli effettuati dalle fiamme gialle di Ciron Marina in diversi esercizi pubblici di commercio al dettaglio di prodotti perfumatori e di genere di monopolio. Un soggetto è stato denunciato alla procura per contrabbando e vendita di generi di monopolio senza autorizzazione, nonché sono stati segnalati due rivenditori all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione di sanzioni amministrative fino a un massimo di 450 mila euro e la sospensione della licenza di due esercizi commerciali per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore ad un mese. Cambiamo argomento. Sono stati presentati a Vivo Marina i risultati del progetto valutazione degli stock naturali di oloturie e ricci di mare nei SIC della regione Calabria. Sviluppo delle basi conoscitive per la predisposizione di piani di gestione per il prelievo e la conservazione della risorsa degli habitat a Posidonia Oceanica. Il porto di Vivo Marina con la sua flotta peschireccia rappresenta uno dei punti più interessanti del comparto ma inevitabilmente ne subisce anche le conseguenze legate alla crisi del settore. Anche per questo Vivo Marina ha rappresentato il luogo ideale per organizzare un confronto a più voci per la presentazione dei risultati del progetto, valutazione degli stock naturali di oloturie e ricci di mare nei SIC della regione Calabria, sviluppo delle basi conoscitive per la predisposizione di piani di gestione per il prelievo e la conservazione della risorsa negli habitat a Posidonia Oceanica. A curare l'organizzazione è Raffaele Greco, coordinatore regionale col diretti Impresa Pesca, che ha moderato i vari esperti che si sono confrontati anche alla luce della misura 1.40 relativa alla conservazione della biodiversità del FEAMP Calabria, Fondo Europeo per la Politica Marittima, la Pesca e l'Acquacultura. Per quanto riguarda la protezione e il ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibile. Vi è una nuova e maggiore consapevolezza anche nel mondo della pesca. Devo dire che proteggere le aree costiere in particolare e le aree marine con gli habitat prioritari come la Posidonia o come queste specie di cui abbiamo parlato oggi, le oloturie e ricci di mare, significa in qualche modo non solo come dire assicurare il mantenimento di servizi ecosistemici fondamentali come il sequestro di carbonio, ma anche lavorare per ricostituire gli stock ittici, ovvero le risorse di pesca. Per fortuna oggi c'è questa consapevolezza, quindi oggi abbiamo visto qui il WWF da un lato, le due università di Palermo e Tor Vergata e dall'altro le associazioni della pesca, in primis la col diretti settore pesca e anche l'alleanza delle cooperative italiane. Si può immaginare un rilancio di questo settore che è in crisi? Si deve immaginare, però le istituzioni devono fare la loro parte. Noi ne abbiamo parlato oggi, c'è un tema, uno tra i tanti, ma forse il principale, che è quello della gestione degli spazi marittimi. Oggi occorre governare, oggi più che mai, di fronte anche ai notevoli impatti delle attività antropiche in mare, occorre governare la molteplicità degli usi e delle risorse costiere. 40 anni, 50 anni fa la pesca era forse l'unico, il principale, diciamo così, uso produttivo. Oggi ce ne sono tanti, che spesso vanno in conflitto e creano problemi. Sta alle istituzioni dotarsi, come peraltro le normative prevedono a tempo, di piani di gestione per lo svolgimento di tali attività. Tutela della biodiversità marina, attività di pesca, si è sempre pensato fossero due elementi in contrasto, invece? Beh, non possono essere in contrasto per definizioni, almeno nel futuro, in quanto è sulla conservazione delle risorse che si basa la pesca, nel senso che ne sfrutta la parte disponibile. Ma siccome la pesca non deve agire soltanto oggi, ma deve avere anche un futuro, bisogna tener conto che se non si conserva non si ricrea la risorsa. Questa è la cosa più elementare. Poi c'è tutto un tema più generale, di avere una maggiore attenzione alla biodiversità nel suo insieme. Il mare non è fatto soltanto dei prodotti della pesca, ma di tante specie vegetali ed animali che vanno tutelate e che nell'insieme, diciamo, contribuiscono alla conservazione degli ecosistemi. E si è tenuto a Catanzaro, presso la biblioteca di Palazzo De Nobili, il convegno dal titolo Adolescenza, questa sconosciuta, viaggio all'interno del disagio giovanile. Nel corso dell'incontro, organizzata dal vice sindaco di Catanzaro, Giuseppe, si è discusso del disagio giovanile attraverso un dialogo con esperti in merito a tale problematica. Ascoltiamo. Certo, lei tocca due argomenti che sono argomenti molto attuali, rispetto ai quali l'amministrazione comunale si interroga. Si interroga molto anche alla luce della perdita di vite umane che è recente, che ha colpito la comunità catanzarese. Purtroppo, anche in virtù della pandemia da Covid, i nostri giovani la vita di relazione la svolgono elettivamente attraverso i media digitali. Questo chiaramente comporta dei rischi, perché c'è sempre chi approfitta di quelle che sono le vulnerabilità e le fragilità. C'è il bullo di turno che chiaramente può strumentalizzare alcune situazioni. Oggi noi avviamo una riflessione su quello che è il disagio giovanile, su quello che è il mondo dell'adolescenza e degli adolescenti. Non abbiamo ovviamente la pretesa di esaurire l'argomento in un unico pomeriggio, ma vogliamo avviare degli spunti di riflessione, dai quali poi dovranno venire fuori delle proposte sostenibili. Ecco, sicuramente ci sarà il garante Antonio Marziale che ha aderito all'invito, al mio invito. Per quanto attiene alla rappresentanza della famiglia, del giovane che si è tolto le vite dal ponte Morandi, è una notizia che è arrivata anche a me, ma informalmente io non ho avuto ancora contatti diretti con questa famiglia. Se così sarà, cercheremo di essere di supporto e soprattutto di evitare quello che vogliamo evitare un aumento di fenomeni di questo genere. Dunque, io mi trovo ad affrontare questo problema da due punti di vista, dalla prospettiva di chi lavora con i ragazzi e dalla prospettiva di chi poi ascolta i genitori. Credo che quello che manca nelle famiglie, nella nostra società attuale, è il concetto di dialogo. Io mi ritrovo facendo degli sportelli d'ascolto nelle scuole, che è una delle agenzie educative che si prende carico di questi aspetti, della mancanza di comunicazione. Non solo, poi vi è la tendenza, secondo me, in quest'ultimo periodo della famiglia a affrontare, a essere anzi consensente, al discorso del sostegno psicologico, ma nello stesso tempo a delegare totalmente alla figura del terapeuta questo aspetto. E questo ovviamente non è utile. Su questi punti credo che la società, e benvenga a questa iniziativa del Comune di Catanzaro, che dimostra una sensibilità particolarmente notevole a questo aspetto, a dover collaborare con le varie agenzie educative. Ma appunto io ho deciso di incentrare la mia relazione su quelli che sono eventi catastrofici che iniziano all'inizio della mia carriera, quindi hanno rappresentato un po' quella che è la colonna sonora della mia carriera, carriera che inizia con una guerra e diciamo si avvia la conclusione, purtroppo con una guerra speriamo che sia l'ultima. E sono sicuramente degli eventi che hanno inciso notevolmente sullo stato di benessere dei nostri ragazzi nelle varie generazioni, ma soprattutto in quest'ultima generazione che ha visto cancellati tre anni della propria giovinezza. E purtroppo gli effetti sono proprio quelli che abbiamo registrato in questi giorni a Catanzaro con un sicilio, è un malessere generalizzato. Noi abbiamo il 30% in più degli accessi in pronto soccorso per manifestazioni, patologie psichiatriche. E purtroppo tutto questo avviene in una nazione dove le cure psichiatriche sembrano inutili, ma soprattutto in una regione in cui manca un reparto di neuropsichiatria infantile. Quello che mi sento di dire prima di tutto è di ricostruire noi adulti la percezione dell'adolescenza perché l'abbiamo smarrita, cioè nel senso che siamo immersi in una società dove l'adolescente quasi non esiste, perché passano dall'infanzia direttamente all'essere considerati grandi, all'essere considerati adulti. E' un vizio che abbiamo come genitori, è un vizio che abbiamo come società e facciamo di tutto perché loro si sentano adulti. E allora ci sfugge quella fase di formazione importante che anche le leggi stanno tentando di ridurre con tentativi di farli votare a 16 anni, di dargli la patente a 16 anni, il permesso della caccia a 16 anni. Vergognosamente abbiamo anche la soglia del consenso sessuale a 14 anni, talvolta a 12. Allora dobbiamo responsabilizzarci come adulti ad accompagnare questo passaggio all'interno del quale non avendo guide si smarriscono. Allora ecco che perdono il senso della vita, il senso dell'orientamento, ci sfuggono di mano e vanno in depressioni, vanno a finire nella droga, vanno a finire in devianze che possono determinare anche la loro morte, il loro suicidio. E il suicidio ha una sua importanza in questa società perché purtroppo i casi si stanno moltiplicando ed è dovuto a quella che Durkheim in sociologia ha chiamato anomia, cioè un momento in cui gli esseri umani non si riconoscono più nei valori consolidati perché se ci badate bene è tutto in crisi, la scuola è in crisi, la famiglia è in crisi, la chiesa è in crisi, la politica è in crisi. Allora sono davanti allo smarrimento e trovano in quella soluzione la soluzione che non dovrebbe essere. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla realizzazione del progetto Antica Croton che prevede dieci interventi suddivisi in tre raggruppamenti interconnessi tra loro. La novità è che oggi il progetto di Antica Croton ha il nome dei progettisti e il nome delle aziende che realizzaranno. Oltre 29 milioni di euro di interventi già appaltati attraverso Invitalia che prevedono sia la progettazione sia la realizzazione per far partire Antica Croton tra circa 5-6 mesi, dopo più di dieci anni di attesa. Dieci interventi suddivisi in tre raggruppamenti interconnessi tra loro la cui progettazione prende il via dopo l'itero amministrativo. Sono state presentate presso il comune di Crotone le società che si sono aggiudicati i lavori uno a Capocolonna, uno sulle mura vicino del castello Calloquinto e su via Quarbone per Copiniera e uno invece che riguarda un circuito urbano che collegherà tutte le aree di interesse archeologico. Il coordinatore dei progettisti Alberto Giordano, noto professionista, reduce dall'esperienza di Matera 2019. Senta, cosa l'ha spinta ad accettare questo ambizioso progetto di cui Crotone parla forse da troppi anni? Mi ha spinto il desiderio che ho capito del sindaco e del dirigente Antonio Senatore di fare due operazioni molto importanti. Una di rendere unitario il progetto che per motivi di bando è stato diviso in tre cluster e l'altra è quello di poter coinvolgere la cittadinanza in tutti i passaggi importanti di questa progettazione che poi porterà ai lavori. L'importante è che i cittadini possano intervenire, possano vedere le cose che si stanno facendo nel momento in cui si stanno facendo e non soltanto a risultato avvenuto e possano essere ascoltati. Però io vorrei cominciare questa intervista chiedendole Antica Crotone valorizza i siti della città, però mi perdoni, i siti non ci sono? No, i siti e la città. Questo è un progetto che si sta costruendo attraverso un modello anche, possiamo dire, futuristico. Nel senso che si è deciso di costruire un modello di sviluppo urbano attraverso la propria identità culturale e attraverso la riscoperta della propria archeologia. È vero che vi è nella cittadinanza della diffidenza e in alcune situazioni anche delle criticità in cui nella fase di rimodulazione alcuni elementi dell'archeologia identitaria della città stessa sono state eliminate. Per me questo non significa soltanto che il progetto lavorerà per creare quello spazio per dopo recuperare quelle stesse aree che per motivi tecnici sono state stracciate dalla prima fase. Ma non significa che non sono elementi che dovranno essere recuperati perché sono elementi identitari della nostra città stessa. Siamo giunti all'ultima notizia. Anche a Calimera, frazione del comune di San Calogero, nel Vibonese, si è festeggiato la festa del papà. Vediamo. Vi sono tanti modi per celebrare la festa del papà ogni 19 marzo. A Calimera, frazione di San Calogero, si è scelto di festeggiare organizzando una serata all'insegna del divertimento, della musica, dello spettacolo. Grazie all'impegno dell'instancabile Cosimo Limardo, l'associazione Voglia di Vivere, insieme all'Unione Nazionale Italiana, ha organizzato un appuntamento con protagonisti, giovani artisti e giovani promesse del mondo dello spettacolo. La nostra associazione è stata fondata nel 1989 e stiamo andando avanti con successo. Stasera ricordiamo tutti i papà scomparsi in memoria di tutti, purtroppo, i nostri papà. Questa manifestazione è sempre un ricordo, io naturalmente voglio fare anche un augurio a tutti i papà, presenti e non. Naturalmente questo è un mio augurio che va di buon aspicio. È tutto per questa edizione, ora spazio alle notizie dell'Italia e del mondo. Grazie per averci seguito. Secondo giorno di visita ufficiale della presidenza cinese Xi Jinping a Mosca, che dopo il faccia a faccia di ieri, oggi è tornato al Cremlino e ha invitato Putin in Cina quest'anno. Nell'incontro durato quattro ore, lo ZAR ha spiegato di aver accolto con favore la proposta di Pechino di porre fine alla crisi in Ucraina e di aver visto il piano di pace cinese in 12 punti con rispetto. E il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, ha ribadito che la Russia è aperta a colloqui di pace. Intanto, mentre giunge notizia di attacchi con droni ucraini in una stazione di pompaggio di petrolio in Russia, vicino al confine con l'Ucraina, fonti di Kiev dicono che si sta lavorando per riorganizzare una telefonata tra Zneleski e il presidente cinese. Ma nulla è programmato e il segretario generale della Nato, Stoltenberg, lancia un appello affinché i paesi membri investano almeno il 2% della PIL nella difesa. Giorgia Meloni ha tutto campo nelle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, dai migranti alla guerra in Ucraina alla direttiva sulle case Green, che secondo la Premier rischia di diventare una patrimoniale. Sul sostegno a Kiev e l'invio di armi, Giorgia Meloni dice basta menzogne, perché raccontare agli italiani che se non fornissimo armi all'Ucraina si potrebbero aumentare le pensioni o ridurre le tasse è una menzogna. Sui migranti il presidente del Consiglio ribadisce che prima di ogni ipotetico diritto a emigrare, ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore, per poi rimarcare nella replica sulle accuse inaccettabili per il naufragio di Cutro. La mia coscienza è perfettamente a posto. Spero che sia a posto anche la coscienza di chi usa le morti di povera gente per fare propaganda. Di fronte alle mancate risposte del governo Meloni sulla tragedia di Cutro, le opposizioni unite hanno deciso di chiedere l'accesso civico alle informazioni e ai documenti amministrativi per poter far luce sulla notte tra il 25 e il 26 febbraio scorsi ed evitare che possa accadere di nuovo. PD, Movimento 5 Stelle, Terzo Polo, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa puntano il dito contro l'esecutivo che, sottolineano, ha fornito informazioni parziali dalle argomentazioni inconsistenti della premier Giorgia Meloni al vicepremiere e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che si è sottratto dal rispondere nelle sedi parlamentari. Battere la mafia è possibile, lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Casal di Principe nel Casertano. Il capo dello Stato ha infatti scelto la terra dei fuochi per onorare la ventottesima giornata delle vittime innocenti della mafia. Mattarella ha anche reso omaggio a Don Peppino Diana ucciso dalla camorra nel 1994. Il capo dello Stato si è poi rivolto ai giovani definendoli la generazione della speranza. Voi dovete essere fieri di essere nati in questa terra che ha saputo compiere questa vera grande rinascita. Dovete rifiutare fin dai banchi di scuola la sopraffazione, la violenza, la prepotenza, il bullismo, che sono un brodo di cultura della mentalità mafiosa. E a Milano circa 70.000 persone hanno sfilato nella manifestazione organizzata da Libera e Avviso Pubblico a 30 anni dalla strage mafiosa di Via Palestro. Tra i presenti il sindaco del capoluogo Lombardo Sala, il segretario della CGL Landini e i leader dell'opposizione, oltre a Don Ciotti, che da sempre è impegnato nelle lotte contro la criminalità organizzata, ha detto, ogni giorno ci deve essere l'impegno di tutti. Le foto dei boss Matteo Messina Denaro e Totò Rina sui panetti di hashish, cocaina e marijuana. I carabinieri di Marzala hanno scoperto un deposito all'ingrosso di droga e un laboratorio per il taglio e il confezionamento delle dosi con il brand di Cosa Nostra. I militari hanno sequestrato oltre 14 chili di droga e arrestato l'uomo che sorvegliava il magazzino. TikTok finisce nel mirino dell'autorità garante della concorrenza e del mercato a causa della cosiddetta sfida della cicatrice francese. L'antitrust ha deciso di avviare l'istruttoria per la presenza sul social di video in cui compaiono giovani intenti o dediti ad atti di autolesionismo. L'autorità contesta il mancato monitoraggio e la mancata rimozione di contenuti ritenuti pericolosi, soprattutto per i minorenni. a 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